Salve a tutti ed eccoci qua in questo nuovo video Se vedete questo video molto probabilmente è perché saremo praticamente alle sgoccioli Comunque sarà quasi arrivata l'ufficialità adesso che sto registrando oggi è 16 settembre Molto probabilmente a ore o comunque sia entro domani sarà arrivata l'ufficialità Che Alessandro Tripaldelli è un nuovo giocatore del Cagliari Se sentite le campane, se vedete che ho i capelli bagnati non è un problema Mi sono appena fatto la doccia e le campane non possiamo farci nulla Vabbè stanno già smettendo In ogni caso parliamo di Tripaldelli, giocatore che sinceramente è difficile da valutare Giocatore che arriva dal Sassuolo in prestito con mi sembra diritto di riscatto No, dovrebbe essere un acquisto a titolo definitivo E nella trattativa tra l'altro dovrebbe rientrare anche Filippo Romagna Quindi comunque sia con anche un conguaglio economico dovrebbe esserci Dovrebbe essere un conguaglio economico di circa 1 o 2 milioni di euro da parte del Cagliari Quindi un giocatore che andiamo a pagare anche un po' Considerando il fatto che andiamo a dare anche un nostro giocatore che io sinceramente avrei tenuto Anche considerando il fatto che ha un corciato rotto Quindi comunque sia tu l'hai messo in una trattativa, ok va bene Però comunque sia ha il corciato rotto Quindi è come se te l'avessero contato zero Anche perché io qua vedo che Tripaldelli Su Transfer Max sto vedendo non ha un valore neanche di un milione di euro Vale 450.000 euro Stiamo parlando veramente di un giocatore che ha meritato poco nel calcio che conta Ha giocato soltanto due partite in serie A, tre partite in serie B e due partite in eredivisi Più una partita in Coppa Italia Queste sono le presenze Ah poi c'è, no, no nessun altro Soltanto queste sono le presenze nel calcio vero di Tripaldelli Poi ci sono tutte le presenze in primavera Perché lui viene dalle giorni della Juve Ha giocato poi nelle giorni del Sassuolo Ha giocato nelle divise Comunque ha giocato nel pack Zvolle in prestito Però, cioè ragazzi, questo è un acquisto veramente incognita Ancora più di sottile e ancora più di zappa forse Perché questo è veramente un giocatore che ha giocato poco, 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 poco E anche credo Credo che la sua carriera comunque sia abbastanza segnata forse anche da qualche infortunio Credo, perché a questo punto non si spiega Ha giocato veramente poco Adesso quest'anno sono curioso di vedere cosa fa Cioè la scorsa stagione voglio vedere cosa ha fatto Perché dovrebbero essere queste le uniche due presenze Le ha totalizzate quest'anno Tripaldelli Ha giocato, ricordiamolo Il Mondial Under 20 Dove è stato protagonista con l'Italia comunque di un cammino abbastanza interessante Dove ha giocato nel ruolo di tutta fascia A Cagliari potrebbe ricoprire il ruolo di terzino sinistro Nella difesa 4 di Francesco Però comunque sia È da vedere se giocherà lui O se giocherà Lico Giannis Quindi Penso che ci sarà un ballottaggio ogni volta Tripaldelli da quel che ho letto È un terzino più a progressione Più di propulsione offensiva rispetto a Lico Giannis Che tende a stare un po' più restio All'attacco Però Anche Tripaldelli comunque sa difendere Cioè il terzino lo sa fare Sicuramente lo sa fare più di Luca Pellegrini Almeno a difendere penso che sia più capace di Luca Pellegrini In prospettiva intendo E come dicevo quindi Le uniche due presenze Più anche la presenza di Coppa Italia La totalizzata appunto quest'anno In tra l'altro due partite neanche troppo facili Sassuolo Atalanta Dove Sassuolo ha perso per ben 4 a 1 Dove ha fatto 45 minuti E poi Sassuolo Inter 3 a 4 Dove ha giocato ben 90 minuti Quindi comunque ha giocato partite importanti Però Ha poi giocato la partita di Coppa Italia A Sassuolo Perugia Tra l'altro ha perso a 2 a 1 Dove ha giocato 58 minuti Poi Le presenze in In tutte le trafille dell'Italia Nell'ultimo periodo ha giocato anche in Under 21 Quindi comunque tanta tanta roba Si è giocato le ultime partite dell'Under 21 Però Io penso Che questo sia un acquisto abbastanza Come dire È un po' un Un sasso nell'acqua Sinceramente Com'è lanciare un sasso nell'acqua Sinceramente Non lo so E Cioè non riesco a trovarci un bel proverbio Sinceramente Non so mai è stato un fenomeno su queste cose Però È un'incognita È un'incognita Veramente importante Però è una scommessa Di Francesco sappiamo Sa lavorare bene con i giovani Però Però è un È un punto interrogativo Io adesso sinceramente Faccio fatica A A A collocarlo Titolare A metterlo in panchina Penso che si giocherà il posto Soprattutto all'inizio con Lico Giannis Però io Fosse per me Ragazzi Io in questo ruolo Mi sarei andato a prendere un giocatore che È in rottura con il Tottenham Ne avrete già sentito parlare Perché è stato anche accostato al Cagliari Non so se È una fake news Però probabilmente lo è È stato accostato al Genoa E il Genoa probabilmente a quanto pare ci sta provando seriamente E sto parlando di Danny Rose Che da Mourinho è stato palesemente buttato alla porta È stato mandato alla porta E non lo vuole più al Tottenham Quindi Io personalmente avrei provato A prendere la parametro zero Tanto si sarebbe comunque svincolato Comunque Se ne sarebbe andato via a parametro zero dal Tottenham E Forse lo stipendio E l'ingaggio era un po' importante Però Avrei provato a prenderlo Avrei provato a prenderlo Perché è un terzino Sì Che in seriano non ha mai militato Ma È un terzino Di livello internazionale Che ha giocato diverse partite importanti È stato titolare Nella nazionale Dell'Inghilterra E quindi Perché no? È un acquisto comunque Di carattura internazionale Te lo vai a mettere Già Se tu vai a prendere veramente Quel classe 86 Che io evito di nominare Perché a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità Di Di questo giocatore E diciamo che siamo tutti un po' felici Siamo tutti un po' eforici Per questo acquisto Però Dovesse arrivare lui Dovesse arrivare Danny Rose Diciamo che Andresti a formare un blocco Di carattura internazionale Non indifferente Che il Cagliari Difficilmente ha avuto In questo ultimo periodo Di Di calciomercato Considerando il fatto che sì Abbiamo avuto grandi centrocampi Grandi attacchi A difesa Siamo rimasti sempre sulle solite cose C'è Pitelli Pisacane Bruno Alves Forse è stato il giocatore Che io sinceramente Ho amato più di tutti Che è arrivato poi Andreolli Forse ho ricordato Un brutto Forse ho ricordato Delle brutte cose Comunque Tornando a Tripaldelli Il giocatore Come ho detto prima È un'incognita Però voglio essere fiducioso Perché Di Francesco Ci sa lavorare bene Con i giovani L'ufficialità Vrebbe arrivare comunque a breve Ricordiamo Prestito con No non è prestito Perché mi confondo Titolo definitivo Dovrebbe arrivare Un conguaglio Di circa 1 o 2 milioni di euro Più Sassuolo Il Sassuolo Che si va a riprendere Filippo Romagna Che era Già un giocatore Di Sassuolo Per l'anno scorso Era in prestito Con diritto Di riscatto E a quanto pare Comunque si Alcaglia Ha deciso di lasciarlo partire Così Io sinceramente Romagna È un difensore Che non ho mai Non ho mai È un giocatore Comunque senza infame E senza lode Perché tu Vedevi Romagna Faceva qualche partita Veramente interessante Dicevi Magari Questo potrebbe diventare Qualcuno di buono Poi magari La partita La partita dopo Non aveva Diciamo fatto Il massimo E quindi pensavi Forse non è Quello che mi aspettavo Però io Sinceramente L'avrei tenuto Perché è un difensore Giovane Anche lui Era un classe 97 Giovane Te lo vai a riprendere Lo metti dietro Sì forse Adesso i giovani Sono tanti Della difesa Del Cagliere Perché se tu conti Valuchievic Carboni Cioè Zappa C'è anche adesso Tripaldel Dove si arriva anche Tripaldel Adesso C'è Boccia Che comunque Nelle frunite Delle prime squadre Ormai Quindi Sostanzialmente I giovani Ce li hai Però Te ne vai a prendere Un altro Non lo so È un'idea Comunque Chi si può rispettare Per il Cagliari Cioè Ricordare però Che il Cagliari Romagna L'ha pagato Ben 7 milioni Nella stagione 17-18 Arrivato Nell'estate 2017 Nella trattativa Tra l'altro Che ha Che ha portato Dario Del Fabro Alla Juventus Quindi È stata un'operazione Importante Del Cagliari A mio modo di vedere Quella di Filippo Romagna Che però Diciamo che Non è Non è andata a buon fine Non è andata a buon fine Io Ve lo dico Non ho mai Avuto niente Contro questo Difensore centrale Che Tra l'altro Nelle sue Giovaniglie È giocato da mediano Da centrocampista Addirittura Quindi Vabbè Questa è stata Nascita del Cagliari Io personalmente La posso condividere Al 50% Ci sono Ovviamente Forse tifosi Che non hanno Accettato molto La cessione di Romagna Molti invece L'hanno voluta Quindi Siamo un po' Nel bivio Ci sono Le diatribe Comunque Tornando a Tripaldelli Speriamo bene Che possa far bene Dai Speriamo bene Mi raccomando Alessandro Testa qui Adesso Testa Adesso Veramente Cervello Soltanto a quello Che ti dice di Francesco Lavora bene Lavora a sodo E mi raccomando Perché a sinistra Ci serve veramente Un testino di Di qualità Considerando il fatto Che adesso abbiamo Soltanto Lico Gianni Se Paiats Che Paiats Teoricamente Adesso con l'arrivo Di Tripaldelli Dove fare le valigie Speriamo Perché comunque Paiats È qui Veramente da troppo Tempo ragazzi Paiats Ce l'abbiamo Da Da quando Ce l'abbiamo Paiats Dal ritorno In Serie A Ce l'abbiamo Dall'estate 2016 Paiats Che si fa Al giro Di tutta Italia Ma non torna Mai qua Io veramente Non riesco a capirlo Questo Poi Si ha fatto Un cambio Di ruolo Da tre quartista Adesso ce l'abbiamo Terzino Che cazzo Cioè Vabbè Fatevi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Mi raccomando Passate Nei Nei link Qua sotto Dove vi lascio Il mio profilo Privato E il profilo L'angolo dello sconvol Che ho aperto Qualche giorno fa Quindi mi raccomando A tottolo seguire Io vi saluto Mi raccomando Tripaldelli Mi raccomando Alessandro E mi raccomando Poi a tutti quelli Che devono arrivare Mi raccomando Classe 86 Aspetto La tua ufficialità Questa sera E niente Io vi saluto Forza Casteddu E ciao ciao